Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli, chi di loro fosse il più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro Chi accoglierà questo bambino nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande. Giovanni prese la parola dicendo Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito perché non ti segue insieme con noi. Ma Gesù gli rispose Non lo impedite perché chi non è contro di voi è per voi. Parola di tutti